Abbiamo assistito all'ennesimo scippo da parte del Governo, sono mancati al tavolo 500 milioni di euro che sarebbero serviti per dare una soluzione a questo problema degli esodati. Secondo noi questi soldi sono andati per le promesse elettorali di Renzi che indistintamente a tutti vuole togliere l'Imu. Noi non ci stiamo, non vogliamo assistere all'ennesimo scippo da parte di questo Governo. Io ricordo anche l'anno scorso in legge di stabilità è stato completamente svuotato un fondo che dava la possibilità a chi svolge un'attività usurante di andare in prepensionamento. Un altro miliardo e mezzo aggiunti ai 500 milioni del fondo per l'opzione donna e a tutti gli altri fondi che il Governo ha scippato ai pensionati e alle persone più deboli. Noi siamo stufi di vedere i pensionati che sono usati come bancomat dal Governo e siamo stufi di vedere l'ipocrisia del Partito Democratico che all'interno della Commissione Lavoro ha un'idea e Damiano in primis vuole dare una risposta a questi esodati ma non c'è niente da fare perché il Governo non tiene conto delle considerazioni di un'intera Commissione. e siamo stufi di vedere questi schiacciabottoni e queste persone che illudono le persone più deboli di questo Paese. L'Inps e il Governo dice che sono 49 mila. Secondo noi sono molti di più perché ci sono persone che non hanno affatti accordi come gli esodati e sono stati penalizzati dalla riforma Fornero. Pensiamo a tutti quei lavoratori che lavorano in una piccola azienda e che non hanno potuto fare l'accordo con le parti datoriali. Mi viene in mente addirittura un lavoratore, muratore, che non hanno la possibilità di andare in pensione a 60 anni perché proprio è stata fatta una manovra da parte del Governo che manda in pensione le persone a 67 anni. Secondo noi questo è indegno e non è un Paese civile chi manda un lavoratore edile o un autista di un camion o tutte quelle persone che veramente fanno fatica a lavorare a un'età così elevata. Noi come gruppo parlamentare abbiamo chiesto più e più volte l'abrogazione della legge Fornero che è una legge indegna votata da chi oggi la critica, quindi Partito Democratico e Forza Italia. Faremo la buona finanziaria come l'abbiamo sempre fatta e noi come Commissione Lavoro proporremo proprio l'abrogazione della riforma Fornero. Ricordiamo che proprio ieri abbiamo dato i nomi in Commissione Lavoro per l'audizione che si svolgerà proprio sulla nostra proposta di legge per dare la possibilità, ripeto, a chi svolge un'attività usurante e in particolare il mondo edile di andare in pensione un po' prima. La Lega però si dimentica che grazie al voto incisivo che c'è stato in un ramo del Parlamento ha votato il pareggio di bilancio in Costituzione. Oggi proprio per questo motivo non riusciamo a dare una risposta definitiva al problema degli esodati. Quindi la Lega è complice di questo sistema politico vergognoso che usa i cittadini e le parti più deboli per fare campagna elettorale e basta. I soldi ci sono e ce ne sono parecchi e dobbiamo dare una risposta subito e immediata alle persone più deboli di questo paese. Paduan deve fare bene i calcoli, Paduan deve tornare un po' in mezzo alla gente non so neanche se c'è mai stato, per capire quali sono le sensazioni delle persone. Il popolo vuole l'abrogazione della legge Fornero e Paduan come ministro dell'Economia e Finanze dovrebbe prendersi un impegno, ascoltare i cittadini.